partono i lavori per il completamento di parca stichello 11.000 metri quadri di nuova area verde un nuovo bosco urbano che arriva finalmente a vicenza più di mille le nuove piante forestali che verranno piantate ma anche almeno 30 alberi a pronto effetto che faranno immediatamente vedere cosa può diventare quest'area un vero e proprio polmone verde che attraverserà la città fruibile a piedi e soprattutto in bicicletta i lavori termineranno verosimilmente per aprile 2022